Benvenuti nel mondo degli orologi Alexander Shorokov. Alexander Shorokov è un marchio di orologi esclusivo che incarna perfezione artigianale e design distintivo, pensati per chi cerca qualcosa di unico e speciale. Grazie alla passione che spinge Alexander Shorokov a superare sempre i propri limiti, ogni orologio creato dalla sua manifattura è caratterizzato da uno standard di lavorazione, qualità e design senza eguali. La fonte di ispirazione di Alexander Shorokov è la cultura e il design di ogni paese del mondo, anche se la sua anima è radicata nella storia artistica e culturale millenaria della Russia. L'insolito design degli orologi Alexander Shorokov è la perfetta combinazione tra la precisione tedesca e le sfumature artistiche russe, qualità che rendono questi segnatempo unici nel loro genere. Tra i modelli più rappresentativi del brand, troviamo l'Alexander Shorokov Candy Avantgarde, un orologio che unisce i colori vivaci e il design audace con la precisione e la tecnologia all'avanguardia. Con la sua cassa in acciaio inossidabile di alta qualità e il suo movimento meccanico automatico, l'orologio Candy Avantgarde si distingue per il suo quadrante colorato e dallo stile animato e allegro. Ma l'offerta di Alexander Shorokov non si limita solo a modelli appariscenti. La manifattura offre anche orologi più classici e sobri, come il modello annata numero 5. Realizzato con materiali di altissima qualità, tra cui l'acciaio inossidabile e il vetro zaffiro antigraffio, questo orologio è la perfetta incarnazione dell'eleganza e della raffinatezza. Ogni orologio Alexander Shorokov è caratterizzato da una grande attenzione ai dettagli, che si estende anche alla scelta dei materiali. Infatti, per ogni modello, la manifattura seleziona solo i materiali migliori, utilizzando solo acciaio inossidabile di altissima qualità, pelle pregiata e cristalli di zaffiro antigraffio. Ma l'attenzione ai dettagli non si limita solo ai materiali. Ogni orologio Alexander Shorokov è assemblato a mano da maestri orologiai altamente qualificati. Grazie alla loro grande esperienza e alla loro passione per l'arte dell'orologeria, ogni orologio creato dalla manifattura è una vera e propria opera d'arte. Scegliere un orologio Alexander Shorokov significa entrare in possesso di un tesoro, fatto a mano con cura e dedizione, dove ogni dettaglio è stato pensato per creare un'emozione. Vivi l'esperienza di indossare un orologio che parla di te e della tua personalità, un orologio che non passa mai inosservato e che ti farà sentire unico al mondo. Grazie a tutti.